www.feyyaz.tv www.feyyaz.tv Qui contestano chiunque Mi sembra che siano uomini del PD Uomini e donne del PD Che fino a ieri erano fumibondi con i loro partiti Perché Non RoDota? Perché non l'abbiamo scelto noi E chi l'ha scelto? Mi sembra il 5 stelle sulla rete Non metodo di chiusura Se le scelte devono essere condivise Si dialoga Ma perché non usate un strumento decisionare anche voi? Ma non si vergognano di tutti i soldi che gli hanno levato ai nostri genitori e mozze devono ritrovare a piangere pure per avere le medicine, niente, gli hanno levato tutto, pure la pelle e noi rivolgiamo la nostra dignità. E' un grande! E' un grande! E' un grande! Ok, perfetto, perfetto, bravo! Onore, onore cittadino! Onore! Onore cittadino! Onore! Onore cittadino! E' un berlusconismo dichiarato, è un berlusconismo nascosto. E noi si vota Stefano Rodotà perché è il miglior candidato possibile per la Repubblica Italiana e lo votiamo fino alla fine ragazza. Anche alla quarta? Anche alla 1500.